Ciao da Avsim, manca sempre meno a Inter-Juventus di domenica 6 ottobre e continuiamo la cavalcata sul campo con confronti tra giocatori dell'Inter e della Juventus. Oggi vediamo Lukaku vs Ronaldo. Ma chi è più forte? Romelu Lukaku o Cristiano Ronaldo? Che domanda fuori luogo. Veramente mi critico da solo, ma è per contestualizzare e per spiegarvi quali sono i termini di questo confronto e di questo dibattito che andrete poi a sviluppare voi nei commenti. E vi ringrazio fin da ora per la partecipazione. Ovviamente non sto qui a voler cercare una gerarchia, a tracciare una classifica di chi è migliore tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku perché è ovvio che Cristiano Ronaldo è molto più forte di Romelu Lukaku. Lui è sempre stato e forse lo rimarrà in eterno, nel senso che Lukaku non arriverà mai neppure a sfiorare la qualità, la grandezza, la bravura di Cristiano Ronaldo. Ma vogliamo soltanto osservare, voglio mostrarvi, analizzare qual è stato questo inizio di stagione. Chi sta rendendo meglio in questo inizio di stagione? Sei partite di campionato, escludiamo la Champions. Chi sta risultando più decisivo per la rispettiva squadra? Escludiamo la Champions sia perché si tratterebbe di sole due partite, sia perché in realtà non sarebbero neppure due partite piene, visto che Lukaku a Barcellona non ci è andato. Il leggero affaticamento muscolare è tenuto a riposo da Conte, non sappiamo se in maniera giusta, ponderata o se soltanto in maniera strategica ed opportunistica per tenerselo al meglio per la partita contro la Juventus. E se questo in qualche maniera tradisce una preferenza di Conte verso la partita contro la Juve, quindi verso il campionato rispetto alla partita contro il Barcellona e quindi rispetto alla Champions League. Nel caso sarebbe il solito Antonio Conte che predilige il campionato alle altre competizioni, ma in questo non voglio entrare. E vediamo allora quelli che sono i numeri di Lukaku e di Ronaldo per provare a capire chi sta andando meglio, pur consapevoli tutti della differenza, anche abbastanza netta, di sistema di gioco. Premetto già adesso così che possiamo leggere meglio i dati che vi andrò a leggere e a mostrare. Ovviamente al di là del 3-5-2 o 4-3-3, 4-3-1-2 della Juventus, il punto è proprio lo stile di gioco. Lukaku è stato preso dall'Inter per richiesta specifica di Conte, soprattutto perché si tratta di un attaccante potente, di un attaccante che è bravo sulla profondità, ma è molto bravo anche nelle sponde, nel dialogo con i compagni, nel far salire la squadra. È quindi una punta di riferimento, ma non è necessariamente il punto di arrivo della manovra dell'Inter. Lo è in alcune azioni, in altre no, dimostrato questo dal fatto che nell'Inter fin qui Lukaku ha fatto 3 gol, ma c'è Sensi che ne ha fatti 3 pure lui. E ci sono più giocatori dell'Inter che sono andati a rete anche perché l'Inter ha fatto più gol della Juventus in questo inizio di stagione. Mentre per la Juventus abbiamo 3 Ronaldo, poi abbiamo 2 Pjanic e soltanto Higuain, se non sbaglio, l'altro attaccante che ha fatto già gol. L'Inter ha anche Lautaro Martinez che ha segnato, ha segnato pure Sanchez, insomma segnano più giocatori in questo momento nell'Inter. Lukaku quindi si mette anche a servizio della squadra. Ronaldo non si è quasi mai messo al servizio delle sue squadre, pur essendo sempre stato al centro dei sistemi di gioco e comunque non un centro esclusivista. Cioè Ronaldo non è, è sempre stato definito una prima donna, ma è un giocatore che fa assolutamente calcio intorno a sé, che coinvolge i compagni. Non è certamente un assist man, è un finalizzatore, ma è uno in grado di valorizzare tutto quello che gli ruota intorno. Comunque parliamo di giocatori diversi, parliamo di sistemi di gioco diversi, però possiamo ancora andare a vedere chi si sta rendendo più importante, chi sta rendendo meglio anche rispettivamente al suo sistema di gioco in questo inizio di stagione. Non parliamo di un minutaggio troppo differente, sebbene Lukaku abbia una presenza in più con l'Inter quest'anno in Serie A, cioè 5 presenze da titolare e una da subentrato, 452 minuti. Ronaldo saltando Brescia ha fatto solo 5 presenze, tutte da titolare, e sono 450 minuti perché ha fatto 90 minuti a partita. Questi dati che vi vado a leggere sono di whoscored.com e vediamo che in questo minutaggio quasi identico Lukaku ha fatto 3 gol e 0 assist, Ronaldo ha fatto 3 gol e 1 assist. Bene, già qui vediamo che Ronaldo sta andando meglio perché, visto il sistema di gioco, chi doveva aver già prodotto assist non era Ronaldo ma Lukaku, perché Lukaku nell'Inter serve anche per fare assist, che sia una sponda o che sia in qualche modo un'altra maniera di mandare il compagno al tiro, i compagni che si inseriscono, soprattutto le mezzali. Mentre Ronaldo nel sistema di gioco di Sarri è sicuramente il punto verticale e il punto massimo apice dell'azione, della costruzione, dell'azione della Juventus e quindi è colui che deve fondamentalmente finalizzare. Di gol se ne è anche mangiati ma soprattutto in Champions più che in campionato, però è riuscito a farne 3 e ha fatto anche un assist. Per quanto riguarda la produzione offensiva, segnaliamo due tiri a partita da parte di Lukaku, mentre Ronaldo ne fa ben 5,8, quindi il triplo, tira il triplo. Da questo punto di vista ci siamo, questo è un dato che probabilmente rispecchia la differenza di sistema di gioco, la differenza di approccio tattico. Quello che però si spiega poco, e qui vediamo evidentemente la differente qualità netta a favore di Ronaldo rispetto a Lukaku, è che Lukaku come percentuale di precisione dei passaggi fa registrare un 67,7%, poco, poco, misero, mentre Ronaldo addirittura 80,8. È vero che con Sarri si fanno molti più passaggi corti nello stretto, quindi è più facile tenere una percentuale alta, ma qui parliamo di oltre il 10% in più a vantaggio di Ronaldo. Ripeto, con Lukaku che teoricamente dovrebbe essere un attaccante che favorisce anche il gioco dei centrocampisti. Tra l'altro come numero di passaggi, parliamo di 20, quasi 21 passaggi a partita da parte di Lukaku, ben 36 da parte di Ronaldo. Quindi è vero che Ronaldo ha più opportunità di perfezionarsi al passaggio facendo più passaggi, ma avrebbe anche più opportunità di sbagliare. Lukaku con 21 passaggi a partita, di cui praticamente oltre il 30% sbagliati, evidentemente non sta facendo un buon rendimento da questo punto di vista. Parliamo poi ovviamente dei duelli aerei. Qui vediamo ancora una volta la differenza netta di sistema di gioco. Lukaku ne fa 4,5 a partita, Ronaldo 1,2. I duelli aerei di Ronaldo sono ovviamente prettamente in area, addirittura in area piccola, e sono quelli finalizzati al goal. Non che ne abbia fatti tantissimi fin qui, perché non abbiamo buttato dentro tanti cross, mentre i duelli aerei di Lukaku sono probabilmente, anzi sicuramente, disseminati un po' per tutto il campo, sulla tre quarti in particolare, diciamo utili per far risalire la squadra. E la strategia che utilizza Conte è verticalizzazione per poi allargare. Questa verticalizzazione spesso è rasoterra, ma a volte anche palla alta. Vediamo ancora, sempre per quanto riguarda la contribuzione offensiva, Lukaku fa 1,3 chi passa, Ronaldo 1,6. E anche qui, come per quanto riguarda gli assist, siamo ad una, in qualche maniera, discrepanza, siamo ad una illogicità. Perché un giocatore asservito alla squadra, come Lukaku, come dovrebbe essere, dovrebbe mandare in porta di più i compagni, dovrebbe aver fatto registrare il maggior numero di chi passi, cioè dovrebbe aver mandato al tiro i compagni più frequentemente. non necessariamente più di 1,3 volte a partita, cioè può essere anche un buon numero quello di Lukaku, ma Ronaldo fa di più. Lukaku dovrebbe aver fatto più chi passi di Ronaldo, che ne fa 1,6, perché Ronaldo, come dicevamo, è il vertice del gioco della Juventus e teoricamente è l'ultimo che tocca il pallone in un'azione. Invece riesce a fare più chi passi di Lukaku. Qui è una questione proprio di qualità dei giocatori. E ancora vediamo i dribbling, ma qui siamo nel discorso diametralmente opposto rispetto ai duelli aerei, cioè la peculiarità di Lukaku sono i duelli aerei, la peculiarità di Ronaldo sono i dribbling, che infatti sui dribbling vediamo che Lukaku ne fa 0,7, Ronaldo il doppio, 1,4 a partita. A questo punto, tolto Qscord, passiamo agli XG offerti da Understat, che ci dicono che per Lukaku e Ronaldo, che entrambi hanno fatto 3 gol, Lukaku però, leggermente più di Ronaldo, ha tirato in porta, cioè ha tirato meglio, ha creato più difficoltà, ha rischiato e meritato, tra virgolette, di segnare leggermente di più rispetto a Ronaldo. Cosa sono gli XG expected goals? Lo spiego per l'ennesima volta per chi non l'avesse ancora acquisito. Si tratta della somma dei valori attribuiti a ciascun tiro verso la porta avversaria, tenendo conto di una serie di parametri, condizioni di tiro e presenza di eventuali difendenti o altri ostacoli, distanza dalla linea di porta, angolazione e tipo di azione. Gli XG di Ronaldo sono 3,4 in questa Serie A, quindi ha meritato di segnare un po' più dei tre gol che ha fatto, Lukaku 3,53. In effetti siamo lì, però c'è una differenza a favore di Lukaku. Molto interessante la questione invece degli X-Assist, stesso discorso dei gol, ma non riguarda i tiri, riguarda i passaggi, riguarda praticamente i key passes, tutti compresi sia gli assist, sia quelli che non si trasformano poi in gol. E vediamo che Ronaldo fa registrare 1,42, quindi ha fatto un assist, ma avrebbe potuto farne 1,5, diciamo 2. Mentre Lukaku 0,45, quindi più o meno mezzo assist, ha provato a confezionarlo. Ma come vedete, e lo vedevamo nei key passes, Lukaku non si è ben messo a servizio, da questo punto di vista, dei compagni e della squadra. Sempre su Understat troviamo però una grafica che è molto interessante, che vi mostro, che è proprio un raffronto grafico plastico evidente del rendimento di Lukaku e di Ronaldo in questo inizio di stagione. Che cosa vediamo da questa grafica? Allora, è praticamente un ottagono che ci mostra al vertice altro i gol in media per 90 minuti. Poi, andando in senso orario, XG per 90 minuti, Tiri su 90 minuti Assist in media su 90 minuti X Assist in media su 90 minuti Key Passes su 90 minuti Le ultime due voci sono un po' più complicate XG Chain 90 significa è la somma degli XG collezionati da ciascuna azione alla quale il giocatore ha preso parte X Build Up 90 e lo stesso discorso di XG Chain cambia soltanto che nei build up sono esclusi i Key Passes e i tiri, se non sbaglio sono esclusi i Key Passes e i tiri nei 90 minuti quindi è un numero, diciamo, epurato da quelli che sono gli elementi di un'azione che maggiormente incidono sui XG cioè i tiri e i Key Passes e quindi, diciamo, dà il valore della potenzialità offensiva delle azioni a cui prende parte il giocatore Come potete vedere, Ronaldo è davanti sotto tutti i punti di vista non solo, ma rappresenta la sua figura quella verde una figura talmente ampia ed omogenea che praticamente parliamo di un giocatore che si sta mettendo al servizio della squadra a tutto tondo e sta costruendo gioco su tutti i fronti non sta venendo meno da nessun punto di vista l'area coperta da Lukaku quella celeste all'interno è invece nettamente deficitaria nel senso che è venuto meno su tutta una serie di aspetti che potevano essere importanti per il suo stile di gioco e per quello che è lo stile di gioco di Conte e dell'Inter in particolare colpisce, secondo me, è proprio questa carenza sugli XG buildup 90 cioè Lukaku non partecipa alla manovra dell'Inter se non nelle azioni caratterizzate da tiro o ki passes cioè da tiri in porta fondamentalmente che siano suoi o dei compagni se non si va al tiro Lukaku nella manovra tendenzialmente non c'è questo significa che cosa? che Lukaku è il vertice è il punto d'arrivo della manovra dell'Inter ma tante volte quando gli arriva il pallone si va al tiro e se non gli arriva il pallone è difficile per l'Inter praticamente tirare questo più o meno si va a capire poi vediamo soprattutto una carenza per quanto riguarda gli assist questo era evidente lo abbiamo detto perché Lukaku ha fatto zero assist ma anche per quanto riguarda i tiri come dicevamo perché ne fa due a partita su 90 minuti abbiamo un 2,38 mentre Ronaldo si assesta su 5,80 questo è il confronto numeri alla mano alla sesta giornata di Serie A tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo ovviamente in attesa della settima che sarà non decisiva ma molto importante tra Inter e Juventus chi sarà più decisivo in campo tra Lukaku e Ronaldo in questa specifica partita ditemi la vostra fatemi sapere come la pensate anche su questo confronto su questi dati che vi ho letto come li leggete come li interpretate grazie per la vostra partecipazione e il dibattito che andrete a sviluppare vi raccomando di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non l'avete fatto per ricevere appunto notifiche su tutti i prossimi video che usciranno ci vediamo molto presto e sempre forza Juve a tutti i prossimi video